Creare contenuti capaci di coinvolgere il pubblico è fondamentale in numerosi contesti della nostra vita sociale e lavorativa, per imprenditori e manager che devono utilizzare le parole giuste per coinvolgere i team e gli individui, per venditori e professionisti che devono trasmettere fiducia e affascinare attraverso le loro parole, per insegnanti, educatori, relatori, formatori e coach che devono relazionarsi con platee e individui in aula o attraverso i canali digitali e in generale per chiunque voglia imparare a comunicare in modo efficace e autentico, esprimendo intenzioni ed emozioni anche attraverso le parole giuste. In questo video ti voglio spiegare una tecnica per migliorare i tuoi contenuti. Io sono Francesca Magistroni, attrice, musicista e professional coach e da oltre 10 anni mi occupo di formazione, aiuto le persone, i professionisti a diventare più efficaci nella comunicazione, ad avere più sicurezza e fiducia per raggiungere i risultati che più a loro stanno a cuore. La comunicazione è parte integrante della nostra vita e del nostro successo nelle relazioni della vita privata e nel lavoro e imparare a creare un contenuto di valore genera una comunicazione efficace e per questo circolare. Tutto scorre e diviene. Del resto Walter Benjamin sosteneva che la narrazione nasce e vive con l'uomo. Ma come puoi allora creare un contenuto di valore per migliorare la tua comunicazione o quella della tua azienda? Il primo passo che ti proponiamo è quello di conoscere la regola delle 5 W. Chi, W, cosa, what, quando, when, dove, where, perché, why. Questa tecnica di scrittura presa in prestito dal mondo del giornalismo potrebbe essere utile per comprendere bene una situazione in modo da poterla elaborare scrivendola e poterla raccontare al meglio o essere utile per capire un compito da svolgere e i risultati concreti da produrre in un progetto. Ti faccio degli esempi. Fare un resoconto. Che cosa è successo? Chi c'era? Quando è successo? Dove e perché è accaduto? Fare una previsione o un progetto. Che cosa succederà o si dovrà fare? Chi ne sarà il responsabile e il destinatario? Dove si dovrà agire? Quando scadranno le varie tappe di consegna? Qual è lo scopo, l'obiettivo di ciò che si vuole fare? Raccogliere un briefing o farsi spiegare un compito da svolgere. Che cosa devo fare? Perché devo farla? Con quale finalità e vantaggi? Quando devo consegnarla? Chi è il responsabile a cui devo fare riferimento? Dove consegnare o spedire o agire? Cambiare lavoro. Che cosa voglio fare di nuovo o di diverso? E perché voglio cambiare? Dove voglio lavorare? Avvicinarmi o anche andare lontano? A chi posso rivolgermi? Chi può aiutarmi quando voglio cambiare? Entro quanto tempo? Come hai visto, avere una struttura chiara in mente ci aiuta ad individuare l'obiettivo e a costruire dei progetti emozionanti. Perché se ci pensi? Le storie ci danno una mano a veicolare il nostro messaggio di valore e quando si riesce a farlo è magico.